Ciao a tutti, sono Mario Moschetta. Sono un consulente di marketing, mi sono laureato all'Università Bocconi e sono da sempre appassionato di tecnologia e innovazione. Ma perché sto iniziando questo nuovo format? La nostra generazione, come le altre, si trova ad affrontare uno dei periodi peggiori di sempre. Ma sento sempre più persone che non riescono a trovare lavoro, che non sanno cosa fare nella vita. Che anche e soprattutto a causa del covid sono totalmente immobili e in badia degli eventi. E in realtà qualcosa di molto simile è successo anche a me. Nell'arco di neanche un mese, infatti, ho perso il mio nuovo lavoro in una startup di eventi. Dopo sei anni a Milano sono tornato a casa in un paesino di duemila anime in Abruzzo, senza neanche la DSL, figuratevi la fibra. E per concludere, ve lo dico come bonus, la ragazza con cui stavo uscendo in quel periodo mi ha lasciato. Non un grande inizio, insomma. Eppure oggi mi ritrovo con un'attività aperta che funziona, va bene e mi ha garantito una buona stabilità economica. Sono riuscito a raccogliere 50.000 euro di finanziamento grazie a un fantastico team per una startup che sto seguendo. E sono del tutto soddisfatto di come sia andato il 2020. Ecco, io ho avuto la fortuna di riuscire ad uscire da questa situazione e realizzare i miei obiettivi per quest'anno, nonostante tutto quello che è successo, anche perché in passato mi sono ritrovato in dei momenti difficili in cui tutti gli elementi sembravano contro di me. E quindi ho elaborato una serie di strategie che poi mi sono tornate utili anche durante questo lockdown, quest'anno, e che mi hanno permesso di rimettermi in carreggiata più velocemente e di realizzare i miei obiettivi. Questi sistemi voglio condividerli con voi, un po' come consigli, e magari mi piacerebbe che riuscissimo a scambiare un po' di sistemi, di tecniche, per poter realizzare i nostri obiettivi e spingerci sempre di più ad alzare l'asticella per creare la versione sempre migliore di noi stessi. Ci vediamo lunedì con il primo video.